Sono 25 i casi di positività accertati in seguito a un focolaio registrato nella scuola primaria di un istituto scolastico di Mira. Tutto sarebbe partito dalla positività di un insegnante che ha portato alla messa in quarantena di una classe, 10 i casi tra gli alunni. Nei giorni successivi però gli accertamenti hanno individuato positività in altre tre delle cinque classi, rispettivamente 10 in una seconda classe testata, 2 in una terza sottoposta a tampone e 2 casi nella quarta. Una quinta classe invece risulta attualmente libera. Monitorando l'evolvere della situazione, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ha messo in atto tutte le azioni di contenimento e prevenzione, quindi sono 25 i casi totali e 64 i contatti scolastici in quarantena. Gli alunni coinvolti sono per la maggior parte asintomatici. I pochi pauci sintomatici presentano sintomatologia blanda, come algia addominale, vomito o raffreddore.